Benvenuti al consueto appuntamento con i servizi educativi del Museo Pol di Pezzoli, oggi dedicato alle scuole medie. L'arte non è soltanto invenzione, idea, racconto, l'arte è anche e soprattutto materia. Il Museo Pol di Pezzoli conserva numerosi manufatti raffinatissimi di diversi materiali. Legno, pietra, metallo, porcellana, vetro, tessuto, sono tutti materiali che abbiamo intorno a noi nelle nostre case e che utilizziamo comunemente. Ma qui al Museo Pol di Pezzoli questi oggetti sono tutt'altro che comuni. Ognuno di questi materiali è stato lavorato dalle sapienti mani dei maestri dell'arte che lo hanno trasformato in qualcosa di unico. Ogni materiale è qui esaltato per le sue caratteristiche e le sue qualità, non solo per la sua utilità. Il vetro per la sua trasparenza, la porcellana per il suo candore splendente, il metallo per la sua lucentezza, il legno per la sua consistenza e per le infinite sfumature di colore. La materia parla agli artisti e li guida. Dentro ogni materiale i maestri che l'hanno lavorato hanno visto delle qualità e le hanno tirate fuori esaltandole fino a farle diventare delle vere e proprie opere d'arte. Osserviamo anche noi gli oggetti che abbiamo nelle nostre case e confrontiamoli con oggetti del medesimo materiale presenti nel museo. Aiutiamoci con una scheda che potremo inviarvi per riconoscerli, osservandole le caratteristiche di ogni materiale fino a definirlo. Confrontiamo gli oggetti di uso comune con gli stessi oggetti trasformati dall'ingegno e dall'abilità dell'uomo in opere straordinarie e preziose. Buon lavoro.